La nave di Goletta Verde al porto turistico di Pescara, oggi avete presentato anche questa iniziativa in collaborazione con il Touring Club. Sì, abbiamo premiato Torre del Cerrano consegnando per la prima volta quattro vele in Abruzzo, appunto al comprensorio dell'area marina protetta, proprio in riconoscimento del lavoro fatto non solo dal punto di vista di tutela e conservazione ambientale ma anche di promozione turistica. Abbiamo messo in campo un'azione da tempo legata al tema del turismo attivo sostenibile che a nostro avviso è la risposta utile per far crescere il turismo nell'insieme sul nostro territorio. L'Abruzzo può diventare un competitor nel momento in cui si capisce che in Abruzzo puoi fare sport in modo sostenibile, proprio perché è la Regione Verde d'Europa. In più abbiamo anche premiato un lavoro fatto dai ragazzi del secondo corso del secondo anno di architettura della facoltà dell'Università di Chieti Pescara, legata proprio a un'idea nuova di riqualificazione del fiume Pescara che mette dentro l'idea di una nuova città pescarese che guarda al tema della produzione, dello sport e della cultura. Non possiamo però non chiedere a Giuseppe Di Marco qualcosa, visto che parliamo di Goletta Verde, sullo stato delle acque del mare della nostra regione. Siamo in piena stagione estiva, qual è la situazione? Abbiamo detto che all'arrivo di Goletta davamo uno degli otto punti che abbiamo attenzionato per quanto riguarda i nostri rilievi. In particolare con Operazione Fiumi eravamo andati sul fiume Sinello questa primavera e avevamo avuto un dato fortemente inquinato. Il dato di oggi ci dice che la situazione è diversa, abbiamo trovato un dato positivo, ovviamente il prelievo è diverso perché a primavera siamo entrati dentro il fiume, adesso fatto alla foce, quindi possiamo dire oggi in anticipazione che il primo dato degli otto è positivo.